Eccoci finalmente giunti nel luogo più atteso da tutti voi telespettatori e il nostro network è il primo ad esservi arrivati. Eccoci qui, alla scrivania di Dio. Come ben sapete, 4.000 anni fa Dio era seduto proprio su questa sedia a gettare le vasi del nostro splendido pianeta. Il primo giorno separò la Terra dal cielo. Il secondo giorno creò le cambiali in bianco. Il terzo giorno creò le nuvole e l'acqua. Il quarto giorno scioperò contro l'innalzamento dell'età pensionabile. Il quinto giorno creò gli animali. Il sesto giorno creò l'uomo. E il settimo giorno si ripesò, bevendo un barbler, pur parler. Tutto come era previsto nei piani. Ma avviciniamoci telespettatori perché ci sono delle sorprese. Disegni stilizzati, tratto molto semplice, tipici di un bambino, probabilmente di Gesù. Degrado, abbandono. Ormai questa scrivania è lasciata così, a marcire. A marcire come questo legno. A marcire come solo l'ateismo può far marcire il legno. A marcire come questo legno. A marcire come questo legno. Trappola per divinità. Chi mai l'ha costruita? Non si sa. Si sa che già tutte le divinità pagane scicardero vittima. Passerà ancora tanto prima che anche Dio venga preso.